Ottobre 2023, scuola di alta formazione, una delle più grandi opportunità sul campo della formazione in medicina funzionale epigenetica e soprattutto per una medicina centrata sulla persona. Noi assolutamente da quattro anni ormai proponiamo un corso di alta formazione per proporre a medici, nutrizionisti e operatori del settore una formazione centrata sulle possibilità che abbiamo di migliorare la qualità della vita delle persone epigenetica, medicina funzionale, biofisica. Da ottobre, sette weekend a disposizione dei professionisti per apprendere quello che la rivoluzione nel campo della medicina può essere portato nella pratica clinica.